Pollo, Pollo combina tuoi, su dai racconta tu che tu sai, devi abitarti in questa città. Ancora uno, Pollo, Pollo combina tuoi. Con le sue canzoni ha fatto divertire milioni di bambini, perché in fondo tutti, da piccoli o anche da più grandi, abbiamo intonato una delle sigle dei cartoni animati, da Pollo alle di Oscar, passando per Occhi di Gatto. Siamo cresciuti con le canzoni di Cristina D'Avena e dai cartoni alla fabula, il passaggio è breve. Si chiama proprio Fabula, lo spettacolo realizzato all'Art Show Dance Academy, Accademia di Danza e Spettacolo, andato in scena a Torano Scalo, che ha avuto proprio Cristina D'Avena come madrina d'eccezione. Sul palco quindi alcune delle 700 canzoni incise, che sono valse 5 dischi di platino, un disco d'oro ed un totale di oltre 6 milioni di copie vendute. Bellissimo, molto emozionante, poi ancora di più per tutti questi bimbi che hanno ballato, hanno coreografato le mie canzoni. È stato molto emozionante, bellissimo, mi è piaciuto tanto. E poi un pubblico caldo, un pubblico che conosceva a memoria tutte le mie canzoni. È stato veramente, come ti posso dire, un coinvolgimento unico, sia da parte, cioè io con il pubblico e il pubblico con me. Viaggiavamo proprio sulla stessa linea e abbiamo sognato tutti. Ammazzate, non me l'aspettavo, vai!